Non si placano le polemiche attorno al Lazio e al futuro dei lavoratori del portierato della residenza universitaria Campomizzi, ancora in attesa di essere riassorbiti dalla nuova azienda subentrante alla vecchia, l'Europol. Ad oggi risultano disoccupati, nonostante le rassicurazioni hanno spiegato i sindacalisti in un'assemblea aperta alla quale hanno partecipato anche molti politici locali. CGL e Filcams U2FLC hanno organizzato così un presidio dinanzi alla prefettura dove all'interno è stata messa in campo una riunione urgente. I sindacati continuano a ribadire che ad oggi la Campomizzi è vuota, a 19 tra lavoratrici e lavoratori che si occupavano del servizio di portierato non saranno riassunti, ma il tema è molto più ampio, la programmazione di breve, medio e lungo periodo che secondo loro l'azienda per il diritto agli studi universitari non fa. Ad oggi abbiamo ancora una situazione che comporta 19 licenziamenti e 19 mancate assunzioni. Noi continueremo nella mobilitazione finché non avremo una risposta seria sul problema occupazionale e sul problema dei servizi agli studenti. Tanto è vero che ad oggi la caserma Campomizzi, l'ex caserma Campomizzi è vuota, non c'è neanche uno studente e non sappiamo effettivamente quali saranno le prossime mosse di Lazzu. Tanto è vero che i posti messi a disposizione sono 80 mentre le domande arrivate sono 169. È stato pubblicato una gradatoria però solo sui primi 80 aggiudicatari. Per cui oggi dobbiamo avere nei prossimi giorni, nelle mobilitazioni che faremo, dovremmo avere delle risposte rispetto ai servizi e rispetto al problema occupazionale che ad oggi non è stato risolto in nessuna maniera. I sindacati fanno presente anche che c'era stato un vecchio accordo che avrebbe consentito l'ampliamento dei servizi erogati dalla residenzialità pubblica a tutti 169 studenti richiedenti, garantendo l'occupazione di tutti i lavoratori. Per queste ragioni i sindacati hanno chiesto e ottenuto la riapertura del tavolo prefettizio perché ci sono troppe questioni sul piatto che non vanno al loro giudizio.